Jack Lemmon, ieri è stato presentato il film americani di cui lei è protagonista. Qual è il motivo per cui ha scelto di fare questo film? Ho scelto questo film soprattutto per la qualità del testo. Penso che Mamet sia uno dei migliori sceneggiatori del cinema americano contemporaneo. Infatti Mamet ha fatto in questo film un ritratto molto preciso della società americana, soprattutto per quanto riguarda la middle class. Attualmente stiamo attraversando in America la situazione peggiore di questo secolo, se si esclude la grande depressione degli anni 30. C'è una insicurezza enorme e questo film, con una scrittura di livello elevatissimo, rappresenta questi uomini che devono vendere delle proprietà immobiliari ad ogni costo, altrimenti perdono il lavoro. A me interessa vedere fino a che punto un uomo rinuncia ai propri valori e tradisce il proprio codice morale. In questo film il protagonista è capace di vendere qualcosa che non esiste pur di fare dei soldi e questo poi lo razionalizza dicendo che tutto ciò fa parte del mestiere. E lo spettatore quindi, oltre che a divertirsi, viene spinto anche a pensare. Nella sua carriera lei ha avuto la possibilità di lavorare con grandissimi attori. Tra tutti questi compagni di viaggio che ha avuto nel cinema, nei film che ha realizzato, qual è quello che ricorda più volentieri? Sono stato fortunato a lavorare sempre con dei grandi attori e sono tutti talmente bravi che non mi sento di dire che uno è più bravo dell'altro. Ma il più grande amico, il più caro amico è Walter Mattau. Walter può entrare in una stanza e dire soltanto buongiorno e io inizio a ridere, casco per terra. La sua faccia è come una carta geografica. Ogni cosa che fa, ogni cosa che dice, lo vedi, rido solo a pensarci. E' un uomo dolce e caro e siamo molto amici anche perché Alicia, mia moglie, e Carol, la moglie di Walter, sono come delle sorelle. Ci troviamo spesso insieme e siamo come in famiglia. Ma non posso certamente dire che Walter sia un attore più grande di Al Pacino. Posso dire comunque che il cast di americani è senz'altro il migliore di quelli con cui ho lavorato.